Io sono l'Avvocato Mariana De Cinque e risponderò a tutte le vostre domande sul diritto di famiglia. Sono Nicola Forte, un dottore commercialista e risponderò ai vostri numerosi quesiti in materia fiscale. Sono il notario Clarissa Fonda, vi aiuterò a superare tutte le vostre difficoltà in ambito notarile. Io sono una giurista di impresa, mi chiamo Lorenza Morello e analizzerò i vostri quesiti sulle pensioni e sulle altre prestazioni previdenziali. Eccoli sono loro, gli esperti del nuovo Sportello Italia che andrà in onda dal 21 aprile ogni lunedì e giovedì, ovviamente all'interno del programma L'Italia con voi. Quindi se avete domande, mi raccomando, scriveteci e raccontateci le vostre storie. Noi siamo qui per voi. Noi siamo qui per voi.